Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono al centro commerciale con Cadoro e ho preso qualcosa da mangiare. Allora vi faccio vedere cosa ho preso. Ho preso la mia macedonia che c'è caldo con ananas, melone bianco e anguia. Poi ho preso questo panino, buonissimo, non so se lo vedete, ha i 5 cereali, ve lo faccio vedere meglio così. E di dentro c'è tacchino, rucola e mozzarella. E poi mi sono presa questa insalata. Che c'è? Il pollo, arrostito, radicchio, rucola e mais, pomodorini. Ovviamente non la mangerò tutta io ma la dividerò con Mr. Duck. Lui è un pochino timido. E poi mi hanno dato tutte queste salsette. Mi hanno dato l'olio, mi hanno dato l'aceto balsamico e poi sale e pepe, le bustine. Ora vado a mangiare e ci vediamo più tardi. E' buonissimo questo pane. Stai tutti i cereali, vuol vado. Scusate se il video è un pochino spezzettato, però ogni tanto qua passa qualche individuo strano e quindi devo staccare il video. Allora, Mr. Duck mi stava facendo notare che la sua pizza è leggermente bruciata. Ora ve la faccio vedere. Guardate. Tutta bruciata. E ora questa gliela riportiamo al banco e gli diciamo scusate, questa pizza è leggermente bruciata, anche se non ce la cambiate, e gentilmente evitate di farle così bruciate che è schifo. Quindi poi gli farò una brutta recensione a questo posto perché la pizza è bruciata, anche se il mio panino è buono. Sono arrivata qui io. Gli ho dato un pezzetto a Mr. Duck perché per me era troppo. Ok, avete visto? Mezzo io e mezzo lui. Eccomi arrivata alla frutta, ora vi faccio vedere la mia macedonia e la mangio. Andiamo. Guardate che buona. Bella fresca. Melone giallo bianco. E' buono. E' bello freddo. E' dolce. Certe volte i meloni questi bianchi hanno sapore di cucuzza. Da cucuzza perché sono ancora non maturi. Voi ci avete fatto caso che sembrano cucuzze. Poi c'è questo, l'ananas bello fresco. Ci sono dei pezzettini di ananas neri, quelli lì del tossolo, guardate. Li devo togliere. Andiamo. E' un pochino a stegno. Buono. E poi vi faccio vedere l'anguria. Come si chiama da noi a Palermo. Insomma, non è ancora pronto per mangiarsi, mi sa, perché... E' un pochino e dei frutti, mi sa. E poi... Con un sacco di persone che costano... E poi... Allora, questo video è finito. Sembra che vi è piaciuto. Si è mandato discretamente bene. Un bacione. Grazie a tutti